Siamo qui anche per presentare il nuovo collegamento che avremo da Pisa per Marsalam e quindi dal 31 luglio. Ci auguriamo che il mercato toscano recepisca di buon effetto, tante prenotazioni, perché comunque ricredere sull'Egitto, ricredere su un posto come Marsalam, un buon rapporto qualità-prezzo, un mare splendido, quindi una buona opportunità per i giovani, per le famiglie e perché no anche per la terza età. Quindi vi aspettiamo tutti a Marsalam con il volo da Pisa dal 31 luglio per sette rotazioni.